Sì, 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 sì. un attento poi ci tiro poco a destra a favore ci tiro forza a favore ci tiro forza a favore a sinistra un attento allora io voglio dirci una cosa se mi ha mai affrontato un regolamento a maniera della distanza qui mi ha mai risposto un'unità mi voglio bene io non sono un pagliaccio va bene un pagliaccio che fa tu un pagliaccio a mezzo a passi indietro a me fa testi lui va bene come mi dà mi rispetto a me allora tutto che è male di noi ci vediamo bene adesso adesso oh stiamo uccendo forza forza a 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